La società storica di Saronno ha da tempo iniziato un lavoro di scannerizzazione di tutta una serie di negativi donati dalla famiglia Galli. Le foto rese in chiaro raccontano l'evoluzione della città attraverso 60 anni. Vediamo. Siamo qua questa sera perché abbiamo una proposta molto originale perché c'è un archivio di fotografie, di 60 anni di fotografie di Saronno che ci sono state regalate in negativo e che erano come tali inutilizzabili perché appunto è negativo, è negativo, sono non in chiaro. E quindi noi abbiamo iniziato quest'opera di scansione delle fotografie in modo tale da renderle in chiaro visibili da tutti, tutti coloro che ce le chiedono e probabilmente anche senza che ce le chiedano noi faremo in modo che le possano vedere tutti coloro che hanno voglia di vedere come era Saronno in questi ultimi 60 anni, come si è sviluppata, cresciuta, le persone che l'hanno attraversata, che l'hanno abitata. Sono state fatte dal fotografo Franco Galli che ha iniziato appunto, direi un po' per scommessa subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lui era garzone nel negozio di fotografie del papà di Oliviero Toscani che era sfollato qui a Saronno e quindi lui ha fatto pratica dal papà di Oliviero Toscani, il famoso fotografo e da lì gli è arrivata la passione, ha conservato qualcosa e quindi ha cominciato a fare fotografie un po' per diletto e poi perché comunque gli interessava la vita cittadina attraverso quelle che sono le tappe scandite dagli atti amministrativi di Saronno. Naturalmente è un lavoro immane perché è immenso, perché abbiamo circa 60.000 fotografie fatte, sono state sviluppate 26.000, sviluppate con la scansione 26.000, occupavano mezzo locale quindi vari metri cubi di carte, di scatole che adesso sono tutte contenute in un hard disk.